Sta procedendo bene, ho visto nei ragazzi la voglia di emergere, la voglia di far bene, c'è l'entusiasmo giusto per ripartire bene, questo è importante perché si lavora tanto e diciamo è col sorriso, è quello che cerchiamo, al di là delle qualità tecniche, certamente il comportamento e l'entusiasmo devono essere una prerogativa importante per lavorare, soprattutto in questa prima fase dove bisogna curare bene determinati meccanismi e ci deve essere oltre che fisicamente anche con la testa. Mi sei la rosa molto ampia, è difficile gestire la preparazione? No, l'ho detto prima, è chiaro che dal punto di vista tattico puntiamo più sui giocatori che a oggi siamo certi che rimangono con noi, mentre la parte atletica è giusto, che la facciano tutti in ugual misura perché sono giocatori di proprietà del pescare e quindi si devono allenare bene, perché o rimangono poi quando si chiude il mercato o vanno via e devono essere allenati bene. Schiavi non è più giovanissimo, ha 27 anni, così come Rossi non è più giovanissimo, altri sono abbastanza giovani, quindi c'è un mix che cercavamo tra giovani che hanno già maturato qualche esperienza in questa categoria e altri con più campionate alle spalle, quindi quello che cerchiamo è di unire queste tipologie di ragazzi, di giocatori per cercare di far bene. Intanto è arrivato Cutolo, uomo graditissimo a lei, mister. Sì, è un giocatore che ha caratteristiche che possono in un tridente offensivo dare qualcosina in più negli ultimi metri.